C'era un regista che usava le lampadine e c'era uno scrittore che si sedeva due giorni al tavolino di un bar e ce n'era un altro che frugava tra le foto di famiglia. Ci sono mille modi per far nascere una storia e ci sono mille luoghi in cui una storia si può nascondere. Vi scopriremo insieme nel nuovo corso online della scuola Holden dove nascono le storie. Vi aspetto!